Padre Alfio Torrisi, il patrimonio culturale, storico e artistico presente all'interno del Santuario dei Tre Santi ha un valore inestimabile. Questo protocollo d'intesa ha l'obiettivo di iniziare un circolo virtuoso. E noi siamo lietissimi per la realizzazione di questo protocollo d'intesa con le scuole perché questo patrimonio è un patrimonio che è la storia di un popolo che è una ricchezza inestimabile come lei diceva e che deve essere conosciuto da tutti perché è come un messaggio che ci viene attraverso questo ex voto, come un messaggio e come anche una strada, un cammino che è il cammino della vita di ciascuno di noi. Qui è un cammino che è innanzitutto il cammino di questi tre fratelli martiri Alfio, Filadelfo e Cirino che sono i protagonisti di questa storia, di questo cammino di un popolo che illuminato dall'esempio di questi tre fratelli ha realizzato un impegno particolare di vita avendo avuto anche dei doni particolari, noi li chiamiamo, li diciamo, miracoli ma è il miracolo della vita, è il miracolo di trovare il senso, la bellezza della vita che si può leggere nella storia che racchiudono questi ex voto, queste cose. È una tradizione che peraltro continua ancora. Sì, continua ancora anche se in modi diversi, ma continua ancora, c'è sempre questo cammino di questo popolo devoto e tantissimi giovani anche che vengono al santuario in pellegrinaggio per ringraziare i santi e portano anche un segno magari piccolo, ma è sempre un segno che lascia appunto una testimonianza che poi serve alle generazioni che vengono dopo per ritrovare anche il senso, la bellezza della vita anche in mezzo alle difficoltà.